In questa puntata Raggiungere Inbox Zero Un anno di digi imprenditori Scoprire Andrea Ciraulo e OBS Cina digi imprenditoriale Lancio della nuova area clienti Diario di due imprenditori digitali Il podcast dove condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo ragionando insieme per far crescere i nostri business online utilizzando il digitale Un dietro le quinte in cui vi raccontiamo la nostra avventura di business online Gioie e dolori, successi e fallimenti, obiettivi e risultati Sono Marco Gatti di PresentazioneAnimata.it Un servizio di video animazioni professionali che ti aiutano a far comprendere meglio il tuo prodotto e il tuo servizio Sono Daniele Mesana di WPOK Servizio di supporto WordPress ad abbonamento Prezzo fisso risultato garantito per piccole aziende professionisti Marco, tanti auguri Al diario dei due imprenditori digitali Daniele, auguri Un anno Prima candelina Come ti senti? Un anno Chi l'avrebbe mai detto? Marco, non avrei mai scommesso che saremmo riusciti a partire Decollare E essere qua ancora insieme Dopo un anno a raccontare la nostra avventura Daniele, io due anni fa ho detto Io un podcast Mai poi mai Figurati dopo un anno siamo ancora qua E ancora più carichi di prima È vero, è vero, le ultime puntate vedo che stanno andando bene Con più energia E sono contento del risultato Abbiamo anche degli auguri che ci sono arrivati Con dei messaggi Telegram Li facciamo ascoltare Gli auguri al nostro podcast Da alcuni digi imprenditori Ecco gli auguri Tantissimi auguri di compleanno Al podcast più digital imprenditoriale d'Italia Veramente complimenti a Daniele e Marco Per aver trasformato una conversazione privata Un'occasione di crescita loro personale In un'occasione di crescita per una comunità Per la community di imprenditori digitali Questa secondo me è la magia del digitale Trasformare quello che è solo per noi In qualcosa di valore anche per gli altri Complimenti ragazzi, continuate così per altri cento anni Tanti auguri Buon digi compleanno Grazie a Marco e Daniele Per la compagnia e per gli spunti Che ci hanno offerto in quest'annata E niente Cento di questi giorni Ciao ciao Auguri di buon compleanno A due digi imprenditori Che ormai per me Posso definirli due digi amici Di solito in questi casi si dice Cento di questi giorni Beh Io invece dico Pogniamoci come obiettivo Per i prossimi due anni Di raddoppiare il numero Degli iscritti Raddoppiare anche La frequenza Magari una volta a settimana E Raddoppiare il numero di recensioni positive Comunque Auguroni Tanti auguri A il digi imprenditore Anche da un'imprenditore Che abita in Tunisia Ciao Dani Ciao Marco Buon compleanno A voi E al vostro podcast Devo dire che sono contenta di seguirvi Anche perché Anche perché insomma vi conosco E lavoro con voi da diverso tempo E adoro il modo concreto E onesto Con cui affrontate Le tematiche del vostro podcast Per cui Auguroni Continuate così E speriamo di incontrarci presto Ciao Carissimo Marco Carissimo Daniele Ascoltando i vostri confronti Si entra un po' Anche nelle vostre vite Di business ovviamente A volte anche con qualche Spunto personale Che comunque non fa mai male Perché noi digi imprenditori Molto spesso Siamo coinvolti Completamente Nei nostri business Il confine tra appunto Azienda e vita privata Diventa veramente molto labile Vi faccio i complimenti Perché appunto Oltre a tutta una serie Di spunti professionali Molto interessanti E' bello poter assistere Ad un dialogo Tra due amici Tra due pari Tra due persone Che si confrontano Su temi comuni Fa venire la voglia Di trovare Un partner A propria volta Per poter confrontarsi E crescere assieme In bocca al lupo Per il futuro Io continuerò A seguirvi E grazie mille Per il valore E la trasparenza Che mettete In ogni puntata Un abbraccione Daniele dove ti trovi? Sono ancora Dovevo due settimane fa Quindi sono ancora Ad Amsterdam Nel frattempo Hanni è tornata Per due settimane In Indonesia Quindi sono anche A casa da solo Però invece di fare Grandi feste Mi sto dedicando Molto molto Al lavoro Tu Marco? Daniele io sono Appena rientrato Stanotte ho dormito Ben quattro ore Sull'aereo Sono rientrato Dalla Cina Sono molto fuso E sono nel mio ufficio Sono venuto apposta A registrare E poi Andrò a dormire Un pochino Allora abbiamo detto Primo anno Daniele Che cosa ci portiamo A casa Da questo Primo anno Del diario Di due imprenditori digitali? Innanzitutto Abbiamo un regalo Il nostro Digiamico Perché Gianluca Mariani Ha coniato Questo nuovo termine Digiamici E quindi Il nostro Digiamico Luca Mauri Che è il fondatore Di Xenio Ci ha regalato Una skill Alexa Redicata Al diario Adesso In fase di approvazione Speriamo che Nel giro di qualche giorno Sia disponibile Così potrete ascoltare Il nostro podcast Anche con il comando vocale Di Alexa Xenio Io non lo conoscevo Sono andato a vedermelo È un bot Professionale Multicanale Questo è un problema Che io avevo Perché io avevo Ho fatto il bot Per il sito web E funzionava solo Sul sito web Invece con Xenio Si riesce a fare un bot E lo stesso bot Si può Farlo funzionare Su Tanti canali diversi Sul sito web Su facebook Whatsapp Telegram Alexa E Google Assistant Tra l'altro Si può anche integrare In Slack E c'ha delle API Per Chi vuole Ancora di più Integrarlo con altri sistemi È una piattaforma Molto molto potente E Luca Ci ha veramente aiutato Molto Nel Creare questo Questa skill di Alexa Che tra l'altro Diventerà Il template All'interno di Xenio Chi volesse creare Una skill di Alexa Vedrà come template Quella del diario Dei imprenditori digitali Grazie Luca Daniele Abbiamo un altro regalo Abbiamo un corso Udemy Per i digi imprenditori È vero Fausto Mardegan Ha voluto fare un regalo Al podcast Ma un regalo Che poi va A tutti i digi imprenditori Ovvero L'accesso gratuito Al suo corso Udemy Produttività in ufficio Con almeno due persone Quindi se avete un ufficio O se non avete un ufficio Però lavorate con un team Quindi almeno due persone Potete accedere gratuitamente Al corso di Fausto Utilizzando il codice di sconto Digi imprenditori 2019 Attenzione Questo codice di sconto È valido solo Per i primi 20 registrati Per cui datevi da fare È il corso Per imparare A rendere più produttivo Il tuo tempo E quello del tuo team Grazie al digi amico Che regala Per il nostro compleanno Agli altri digi imprenditori Il suo corso Il link Come al solito Lo trovate qui sotto Nelle note Daniele Ringraziamo anche Il nostro sponsor Active Powered Che è la piattaforma In italiano Di Active Campaign Che è un software Di marketing automation E di CRM Con un supporto tecnico In italiano dall'Italia Via ticket Chat Telefono E gruppo Facebook Per i digi imprenditori È disponibile Un codice coupon Per tutti i nuovi abbonati Il codice coupon È digi imprenditori Lo trovate Anche questo link Nelle note dell'episodio E avrete un bel 10% Di sconto Sul primo anno Di abbonamento Tra l'altro Marco Io in queste due settimane Ho fatto un upgrade Del mio account Con Active Powered Perché Allora io ho due account Uno Per il progetto Rotterfreak Con 11.000 Subscribers E l'altro Per il progetto VPOK Che ha raggiunto Il limite dei 500ed Quindi ho richiesto Al supporto Active Powered Di fare l'upgrade Al piano successivo Operazione semplicissima Ho richiesto al supporto Di fare l'upgrade Mi hanno attivato Il piano successivo E mi hanno inviato Via email Il link Al pagamento Roberto Tarzia Uno dei Soci fondatori Di Active Powered È anche lui Un DG amico E fa parte Da nostra community Sappiamo che Stanno lavorando E sono indirittura Arrivo Con una nuova interfaccia Web Per poter gestire Gli abbonamenti Fatture E tutto quanto Direttamente sul sito Ringrazio anche Digi Imprenditori Che sono nel nostro Gruppo Telegram Abbiamo superato Quota 120 Quindi sta diventando Veramente un bel gruppo Di imprenditori digitali Che si ritrovano E parlano di diversi argomenti In queste due settimane Abbiamo parlato Di G Suite E domini aggiuntivi Abbiamo parlato Di gestire la firma Nelle email Con WiseStamp Abbiamo ricevuto Tanti messaggi di auguri Per il podcast È stato veramente Un piacere Abbiamo parlato Di tool Per fare task management E di strumenti gratuiti Per monitorare Il posizionamento Dei propri siti Su Google E poi abbiamo Bot che parlano Con i bot È vero Abbiamo avuto Il primo caso Di un bot Che si è unito Al canale E l'altro L'altro bot Gli ha risposto Dandogli benvenuto È bellissimo Vedere Questi robot Dove ci porteranno Ma so che tu avrai Qualche cosa da dire In questo episodio Sui robot Che hai visto in Cina Come sono andate Le due settimane precedenti Sì Entriamo nel vivo Di questo Di questo episodio Volevo completare La nuova area clienti All'interno del sito WPOK E questo Questo l'ho fatto Mi ha aiutato molto Lo scorso weekend Perché Ero a casa Casa da solo E c'era Un allarme Meteo Il codice giallo Perché c'erano Venti fortissimi Su tutta Tutta la zona Di Amsterdam Quindi niente Il tempo fuori Era orribile Sono riuscito A concentrarmi Per portare avanti Questo progetto E ti dirò Non mi piace Lavorare nei weekend La sera Preferirei fare altro Eppure Quando hai Del tempo Così Senza essere disturbato Da niente Da nessuno Mi ha permesso Veramente di concentrarmi E sai Quando entri nel flow Inizia a lavorare 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 E sono molto contento Del risultato Più tardi In questo episodio Racconto Come introdotto Questa novità Per i clienti Perché penso Che sia interessante A condividere Il secondo obiettivo Era fare La pagina di vendita Per il servizio Se ok E anche questo È stato completato Quindi 100% raggiunto Tu Marco? Daniele Io sono al 50% Avevo due obiettivi Il primo era quello Di leggere almeno Due libri E ne ho letti Tre Però Conta solo Come un obiettivo raggiunto Letto Di Morelli Breve corso Di felicità Di Fisher L'arte del negoziato E di Ryan Levesque Choose Come scegliere Il proprio business Cari disimprenditori Metteremo Una Una poll Sul gruppo Di telegram Scegliete Quello dei tre libri Che vi piace di più Ve ne parlerò Nella prossima puntata Poi dovevo partire Con la campagna Ads Del sito Whiteboard.ee Ma Ahimè In Cina Google Ads Non ha accessi E quindi Sono stato Bannato E censurato Dal governo cinese Quindi 50% Stavolta Non per colpa mia Però Alla fine Sono i risultati Quelli che contano Marco su che cosa Hai lavorato In queste due settimane Allora Daniele Io ero in Cina In the business Non on the business Volevo raccontare A te I nostri ascoltatori Le mie Riflessioni Da digi imprenditore Sulla Cina Quello che ho visto Almeno Sette cose Su cui Riflettere Ok Marco Sentiamo La prima cosa È Il problema Che noi Siamo troppo Google dipendenti Come ho già parlato Anche nelle puntate Precedenti Stavo migrando Anche sulla Gmail Questo è stato Un grossissimo problema Perché Google È bannato In Cina Da una vita Non solo Google Ma anche Facebook Telegram Ma il mio problema Grosso Era quello Di non poter accedere All'email Di Gmail Su cui ho cominciato A fare uno switch Per lavorare A inbox zero Come ci avevano detto Nella puntata precedente Per fortuna Avevo una VPN Sul mio cellulare Sono riuscito A fare qualcosina La VPN Non funzionava sempre Non ho capito perché Mi dava dei problemi Che mi scaricava La batteria del cellulare In maniera Anomala Mi è subito Venuto in mente Che ci fosse Qualche malware O qualche Usavano risorse Per minare Delle criptovalute La cosa strana È che La stessa VPN Dal pc Non mi funzionava Con la VPN Riuscivo ad accedere Alla Gmail Riuscivo ad accedere A Maps Non riuscivo ad accedere A Google Search Neanche DuckDuckGo Funzionava E non riuscivo ad accedere A Trends E ad AdWords E quindi Capisci Quanto siamo Legati A Google E capisci Che se Google Ci fa uno scherzetto Volente o non volente Probabilmente I nostri business Ne risentono Tanto Ma tanto Ora io avevo Il mio team Che lavorava Dall'Europa Però Io ho avuto Notevole difficoltà Qualcune volte Che riuscivo a collegarmi A Gmail Solo dal cellulare Se dovevo scrivere Una mail lunga Non ce la facevo Dovevo dettarla A voce Ai miei collaboratori Che me la scrivevano Per me L'altra cosa strana È che se io collegavo Il cellulare Il computer Con i dati del cellulare Direttamente Quindi con Un collegamento Tethering USB Vedevo la Gmail Sul cellulare Ma non riuscivo A vederla sul computer Daniele Tu che sei un tecnico Mi sai spiegare Questa cosa? Mi puzza Come un problema Dei DNS Potrebbe essere Un problema di risoluzione Perché il cellulare Sicuramente Riceve Questi server DNS Dal Dal Provider Magari sul Computer Li hai Impostati Fissi O qualcosa di simile Poi A un certo punto Skype Mi ha abbandonato Mi ha abbandonato Subito dal computer Che mi diceva Che mi collegavo Da una postazione strana E non mi ha fatto accedere E Dopo un po' di giorni Anche dal cellulare Quando andavo A rimettere ID E password Mi diceva E questa La tua password La tua email iniziale Con cui ti mandiamo Il codice Di attivazione Il problema è che Quella mail lì Probabilmente ha 20 anni E io non la utilizzo più Perché io avevo un account Fastweb 20 anni fa E io non ho più Quella mail E per fare il ripristino Non riuscivo a farlo Quindi Anche senza Skype Quindi Cosa succede Quando non hai Google E Skype Leggi tre libri Succede Succede che Leggi tre libri Smadoni Imprecri E poi dice E vabbè E così Inshallah Però veramente Veramente Come noi siamo legati A queste piattaforme A questi strumenti Anche online Non ci rendiamo conto Né di quanto siamo fortunati Ad utilizzarli Senza problemi E Guarda Solo una volta Mi è funzionata La Gmail Da computer Ma credo ci abbia messo Sei minuti A caricare la pagina E' una tragedia Cioè abituati Alla velocità Della Delle velocità Che abbiamo Di connessione In Italia Ma in realtà C'avevo banda Cioè quando io Facevo lo speed test Avevo 40 mega 60 mega E era il collo Di bottiglia Della VPN Forse bisognava Cambiare VPN Un aneddoto Sulla VPN Ieri sera Prima di rientrare Sento il nostro Digi amico Avvocato Michele E mi dice Non usare la VPN Perché hanno bloccato gente Non li hanno più fatti rimpatriare Me l'ha detto subito dopo Che avevo passato Il controllo del passaporto Per voto Se no Un'angoscia Un'angoscia mostro Però La utilizzano In molti Per business La VPN Perché Per chi lavora Non può fare a meno Di YouTube Che non ho citato prima Piuttosto che di Di Whatsapp Perché oramai nel business Questi messenger Sono Sono un must Quello che funzionava benissimo Era WeChat Alla grande Sì Che è la versione Cinese Asiatica Di Whatsapp Che tra l'altro È molto più avanzato Da quello che ho sentito Perché lo usano tanto Anche per fare pagamenti No Whatsapp È una micro parte Di quello che è WeChat WeChat È una specie di Facebook Cioè La gente vive dentro WeChat Cioè Ci fa Paga Fanno i pagamenti Ne parliamo dopo Fanno acquisti Fanno gruppi Fanno Chat Guardano i siti Ci sono proprio App dedicate Su WeChat È un mondo È un mondo a parte Come da noi La gente magari sta su Facebook E vive solo dentro Facebook Da loro la gente vive dentro Dentro WeChat Sì Il secondo punto È quello dei pagamenti Daniele Non ho visto nessuno Pagare con la moneta Cinesi Che era gente che Pagava sempre con la moneta Che andavano in giro Con mazzetti altissimi Anche perché la banconota Più grossa Sono 100 yuan Che sono da Sono 13-14 euro E non hanno tagli più grossi Oramai Tutti Pagano Solo Online Con il cellulare Ma vai al mercatino A prendere Qualsiasi cosa Paghi col cellulare Ovunque Vai in albergo Paghi col cellulare Pagano con WeChat O Alipay È un servizio di Aliexpress E Ho tentato Di scrivermi anch'io Il problema è che Avevi bisogno di un conto Corrente cinese E quindi Sono stato Per una settimana A tentare di Con WeChat Non ce l'ho fatta E poi Con Alipay Sono riuscito a Registrarmi Ma Con un livello Inferiore Perché non ho Il conto corrente In Cina Però Cioè posso lavorare Da prepagato Non mi accetta La carta di credito E poi mi sono fatto Caricare E alla fine L'ultima sera Ieri sera Ero in aeroporto Quando sono andato Al ristorante Ho pagato Con Davvero Davvero cinese Con Con questa applicazione In pratica L'applicazione Funziona Scansione di QR code Ok La cosa che mi ha lasciato Un po' perplessa È che Non devi dare Tu la conferma Cioè tu fai vedere Il tuo QR code Loro mettono Questo strumento Questo lettore Che poi è il lettore Per noi Il lettore delle carte di credito Ti leggono il QR code E ti adebitano direttamente I soldi Non c'è Non c'è la conferma Che tu devi digitare Un pin Non so se perché Il pagamento Non era eccessivo O se per tutti È in questo modo Però mi hanno detto Che il QR code Che viene generato Dura un minuto Non di più Per cui non te lo possono clonare Per una seconda transazione Ah quindi il QR code È generato Sul tuo dispositivo E loro Fanno la scansione Nel tuo codice In alcuni casi sì Se no Molto spesso Se tu vai a comprare Qualcosa Che è un prezzo fisso C'hai già Il QR code loro Perché tu puoi fare O tu la scansione E quindi paghi Quindi prendi Il loro QR code Fai la scansione Metti l'importo E paghi Oppure c'è già L'importo predefinito Ma anche le macchinette Le vendor machine Che ti vendono l'acqua Anche in aeroporto Anche loro Pagamento Con cellulare Oramai La gente diceva Non va più in giro Con i soldi Va in giro solo Con il cellulare Era due anni Che mancavo dalla Cina Avevamo cominciato A vederlo Questa tipologia Di pagamento Due anni fa Adesso tutti Pagano solo Con il cellulare È anche diverso Dal funzionamento Che noi abbiamo adesso Di Satispay Addirittura Dentro WeChat C'hai click Tre click Tu paghi Via Blim 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 E l'economia galoppa I soldi Non li vede nessuno Terza riflessione Robo Ho visto tanti robot Dentro le fabbriche Stanno sostituendo Le persone Con i robot Perché comunque I robot Lavorano 24-7 I robot Non hanno Non chiedono aumenti Di stipendio E i robot In Cina Costano meno Delle persone La cosa che tu hai visto Perché ho postato Un video Nel gruppo Del Mastermind C'è In un bar Il robot Che ti prepara Il cocktail C'hai il tuo QR code Selezioni Il tipo di cocktail Che hai Paghi E il robot Ti prepara Il tuo cocktail E te lo dà È un po' lento Per carità È un po' lento Però ti lavora 24 ore 24 ore di fretta Ne avevo sentito Parlare di robot Che fanno la pizza Queste cose qui Però è la prima volta Che lo vedevo In un locale pubblico Ma un locale Di una cittadina Della Cina Cioè non era In centro A Shanghai Voglio vedere Sto robot In centro Milano Dove Ci sono 40 persone A ordinare il caffè E nessuno Che prende lo stesso Tipo di caffè Chi lungo Chi corto Chi in tazza grande Chi in tazza piccola Chi freddo No però Scherzi a parte Cavolo Vedere robot In un bar Cavolo Facciamoci due domande Facciamoci due domande Di che lavori rimarranno Quando arrivano Le macchine Camion Che si guidano L'autoguida Già sono saltate Tutte le cassiere Non esistono cassiere Ma Mi hanno portato In un centro storico Dove c'erano Tutti i mercatini Tutti Immagino C'è anche in Indonesia Tutti questi Posti Che ti fanno Da mangiare Che ce ne sono A centinaia Cioè loro fanno da mangiare Non esiste cassa Quindi Chi ti fa da mangiare Non deve Poi toccare i soldi Tutto Via App Tu prendi Il tuo Rosticino Grigliato Con l'app Paghi E via Velocissimo Non hai Il resto Ma guarda Due secondi Per pagare Che l'impatto A livello igienico Non è male Assolutamente Il fatto di non toccare soldi Però è un'altra professione Tocchi il cellulare Però Tocchi il cellulare No è vero Ok Un quarto spunto E riflessione I controlli Con le telecamere Sulle autostrade Ci sono telecamere Ogni 1-2 km Ma tu li vedi Soprattutto di notte Perché fanno pure il flash Cioè ti flashano E quindi c'è un controllo Continuo Dove vai Per esempio I varchi delle auto A parte Il varco dell'autostrada Tipo telepass Che ci sta anche Però quando tu arrivi col telepass Ti compare il numero Della tua targa E l'importo Che tu paghi E soprattutto Negli altri varchi Delle auto Parcheggi I parcheggi Sono tutti automatici Con telecamere Tu entri Scansione della tua targa E quando esci Scansione della tua targa Se sei registrato Passi Se non sei registrato C'hai a fianco al gabbiotto Il QR code Paghi Col cellulare Ti si alza la sbarra Vai Ti segnalano la tua targa Ho fatto il check-in Del treno In stazione Cioè Preso il biglietto Quando tu passi Come negli aeroporti Cioè Tu metti Il biglietto E poi Scansione della foto Della faccia E controllo Così Stessa cosa Nei check-in degli alberghi C'hanno queste macchine Dove tu Metti carta d'identità Scansione della foto E in automatico Ti dice Se va bene O se non va bene C'è un controllo Da paura Secondo me Anche da noi Le cose Non sono così evidenti Ma questi controlli Ci sono Il controllo del passaporto È fatto da noi Uguale oramai A Malpense Ci sono tutte queste telecamere Che si cominciano a vedere Anche da noi Là è molto più evidente Nessuno si scandalizza Però anche da noi Ci siamo vicini Quinta riflessione È che Non essendoci Google Ci sono tutte le alternative A Google Ci sono App di video sharing Tipo Yoko Ci sono altre app Tipo DoWin Ci sono app Tipo Keyway Dove ci sono questi Che noi chiamiamo Youtuber Che ovviamente Loro chiameranno In un altro modo In cui fanno Un sacco di soldi E che di nuovo Col cellulare La gente Gli manda Il tip Mi hanno raccontato Un aneddoto Che c'era un villaggio Nell'entroterra della Cina Che aveva 20.000 tonnellate Di mele Che non riusciva a vendere Hanno preso uno Di questi influencer E in due giorni È riuscito a vendere 20.000 tonnellate Di mele Ai privati Noi siamo abituati YouTube Che ci sembrano Grossi In realtà Comparati con loro Secondo me Sono ancora più piccoli Quindi Da digi imprenditore Un occhio Di presenza Su Su altre piattaforme Ce lo butterei Teniamo presente Che anche altri stati Hanno le loro piattaforme Anche in Russia Anche in Brasile So che Si utilizzano Degli strumenti diversi Che non sono noi Diamo per assodato Che un video Si carica su YouTube Che una serie tv Si guarda su Netflix Sesta cosa Rivoluzione Elettrica Una volta in Cina Era pieno di gente Che andava in bicicletta Nei controviali Adesso sono tutti Motorini Elettrici Che tra l'altro Sono pericolosi Perché sono silenziosi Non li senti Poi ci ho fatto L'abitudine E quindi Ci guardano Per strada Però Tantissimi Ed è una figata Non sentire più Il motore Del motorino Ne avrò visti A migliaia Non ce n'era Uno Col motore a scoppio Autobus In Cina Ci sono 400.000 Autobus Elettrici Daniele Sai quanti Autobus Elettrici Ci sono Negli Stati Uniti Negli Stati Uniti 300 Volevo dire 20 Però 400.000 In Cina 300.000 Tanto è vero Che mi sono molto Stupito Perché ho visto Perché ho visto il cielo Terzo Cosa a cui Non ero Abituato È vero Che siamo In tarda Primavera Quasi estate Quindi le condizioni Meteo aiutano Però Un cielo così Terzo Non l'ho mai visto Io in Cina Settima Riflessione QR code ovunque Biglietti da visita Per strada Per i pagamenti Ovviamente come abbiamo detto prima Il QR code più strano L'ho trovato In albergo In camera Nel Porta carta igienica In porta carta igienica Aveva un QR code Che per curiosità Ho provato A A cliccarlo Mi rimandava Su Google Play Che ovviamente Essendo Google Non funzionava E quindi non ho potuto vedere Che applicazione Poi magari Era qualcuno Che era stato in albergo Che ha attaccato Il QR code Però ci sono Ovunque Dove c'è un cartello pubblicitario C'è il suo QR code Da noi non sono molto utilizzati Anzi Secondo me non li utilizza nessuno Il QR code Da noi Quindi queste sono Le sette riflessioni Da Imprenditore digitale A cui ne aggiungo tre Non da Imprenditore digitale Uno Crise economica Effetto Trump Si lamentano tutti quanti Sono state chiuse le dogane Con Con gli Stati Uniti L'Europa In recessione Non va tantissimo In Cina Stanno soffrendo Soprattutto le aziende Produce Seconda cosa Tutti parlano di guerra Con gli Stati Uniti C'è una guerra in corso Guerra dei Dazi E i cinesi sono convinti Di vincerla Terzo punto Una cosa un po' Carina Che quando parli Di distanze In Cina Per loro Le distanze Si misurano In minuti E non In chilometri Cioè quanto Quanto è distante La stazione 15 minuti Non ti dicono I chilometri E l'altra cosa È che Le distanze Che sono molto distanti È ancora Tutto relativo Mi hanno portato Un albergo Che era vicino Alla fabbrica Mezz'ora Di macchina Per loro Era vicino Era più o meno Nello stesso quartiere Della città Per cui Quando vado in Cina Da noi Lo Stato Per loro È una regione Per noi È una regione Per loro È una provincia È tutto come se fosse Un 5-10x Come grandezza Ok Però quando ti dicono È a 10 minuti da qua Intendono 10 minuti In macchina Sempre macchina Cioè il default è macchina Beh assolutamente sì Daniele Queste sono le mie Riflessioni Del mio viaggio in Cina Di questa visione Che molto probabilmente Sarà il futuro Di quello che ci sta aspettando Per cui Tutti quelli che pensano Che la Cina Sono il terzo mondo In realtà Stamattina Sono rientrato Nel terzo mondo Grazie Marco Per questo tuo report È una delle cose belle Di viaggiare Che vedi Come funzionano le cose In altre culture In altri paesi E ti fa Ti mette anche Un punto di domanda Su quello a cui sei abituato E che magari Dei per scontato Che sia il migliore Il posto migliore Daniele Ho parlato forse un po' troppo Ti lascio a te E a tutte le tue Riflessioni Su cosa hai lavorato E che cosa Hai imparato In queste due settimane È stato un piacere È stato un piacere Ascoltarti Marco Allora Vediamo io Che cosa ho qui Nella lista La prima cosa Su cui ho lavorato È l'inbox zero Perché dopo L'ultima puntata Dove io e te Abbiamo capito Come si usa veramente Gmail Ricordo per chi Per chi non ha ascoltato L'ultima puntata Stiamo parlando Di qual è il modo migliore Per gestire le mail All'interno di Gmail E grazie all'intervento speciale Del digi amico Luca Mariani Ci ha chiarito le idee Su cosa vuol dire Fare inbox zero Cioè non è Avere zero email Non lette Ma avere zero email Nella tua inbox Grazie alle funzionalità Di archivio E funzionalità Di postponi Offerte a Gmail Bene Quindi ho cambiato Il modo in cui utilizzavo L'email Ho smesso di Passare da una label All'altra di Gmail Per vedere Le email Di caselle diverse Ho fatto arrivare Tutto direttamente Nell'inbox E mi sono messo Ad archiviare La roba vecchia Ora Avevo 35.051 email Nella inbox Perché utilizzo Gmail Da 13 anni 12-13 anni Mi sono messo Ad archiviare Allora Non ho letto Le vecchie email Unread Che non le hanno lette Ma le ho semplicemente Archiviate tutte Però L'interfaccia Gmail Non so se è un bug O se sono sfortunato io Ma non mi permetteva Di selezionare Migliaia di messaggi Per archiviarle Dovevo lavorare In piccoli gruppi Di Credo qualche centinaio Di messaggi alla volta Quindi mi ha aiutato Molto la funzione Di ricerca In base alla data Ho iniziato cercando Le email Prima del 2007 Ho trovato Un certo numero di email Archivia tutto Poi prima del 2008 Archivia tutto 2009 Poi quando iniziano A diventare Volumi più grandi Dovevo dividere Nel tipo Cerca le email Di prima del marzo 2008 Ok Archivia quelle Prima del giugno 2008 E via e via Insomma È stato un lavoro Un po' Che ha consumato Un po' di tempo Però niente di Niente di complicato Daniele È un problema Che ho avuto anch'io Quando ho iniziato Due settimane fa A fare questo lavoro Perché Gmail Mi permette di selezionarle 50 per volta A me Io ne selezionavo 50 E gli facevo Archivia La volta dopo Me ne faccia selezionare 10 Archivia Poi dopo ancora 50 Poi 10 Poi ci fa Immagino sia un bacco E invece tu Ne selezionavi più di 100 Come facevi? Allora Quando io facevo la ricerca Mi dice Ti permette di selezionare Tutte le email Della pagina Però quando tu le selezioni Tutte Ti dice anche Ah guarda che ce ne sono altre Vuoi selezionarle tutte C'è un messaggio Adesso non mi ricordo Esattamente cosa dice Però cliccando lì In teoria Le doveva selezionare tutte In pratica ho notato Che insomma Se è qualche Qualche centinaio Ok Però se veramente Sono 35.000 email Col cavolo Cioè qualche migliaio di email Non faceva niente Cliccando su Archivia Non c'è stata la richiesta Però poi Non c'era nulla di fatto Però vabbè È stata un'operazione Una di quelle cose Ripetitive Che fai Dove puoi anche Mandare il cervello in ferie Quindi ti metti lì E Pian piano Si è fatto E adesso con grande orgoglio Ti posso dire che sono arrivato A 16 email All'interno dell'inbox Che sono poi le email Degli ultimi giorni Insomma quelle che Appunto su cui devo fare qualcosa E che non ho né archiviato Né posticipato Quindi 16 email Sono curioso di vedere Cosa succede Quando arrivi a inbox zero E soprattutto Mi piace prendere qualcosa Che ho sempre fatto in un certo modo E cambiarla Perché veramente ti dà uno scossone al cervello Che ti fa Riconnettere tutti i neuroni E infatti Avevo sempre Questa abitudine Che se Leggo una mail Su cui devo fare qualche cosa La metto Non letta E adesso È diventato completamente inutile Fare questa operazione Però spesso la faccio lo stesso Perché oramai è entrato Nei meccanismi Quindi ecco Ricablare il cervello Per utilizzare la mail In questo modo Che mi sembra In modo migliore Ero un po' preoccupato Di avere I mail Di diverse caselle Di diversi argomenti Confluire tutte Nella inbox Però in realtà Non è un problema Perché Quando hai tutto sotto controllo In un punto centrale Riesci a A gestirle Meglio E ti sembra un numero minore Tra l'altro Con le label Colorate Posso Veno male capire Di che Di che argomento sono Le label colorate A me sarebbe piaciuto Invece di avere La label colorata Che proprio tutta la riga Fosse colorata A seconda Della casella di mail Da cui proviene Quel messaggio Non ho trovato Una soluzione adeguata Hai cercato Se c'è qualche Estensione Che fa No 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 Non ho cercato A lungo Però cari Digi imprenditori Se volete Aiutare Un digi amico Accettiamo i suggerimenti Poi L'altra cosa Che ho scoperto Che c'è un'opzione Digi mail Che è nascosta E quindi va attivata Dall'impostazione Che dove c'è Il bottone invia C'è anche il bottone Invia e archivia Che quindi non devi fare Prima invia e poi archivi Ma fa invia e archivia Direttamente Invia e archivia È sotto le impostazioni Generali Quindi c'è mostra O nascondi il bottone Invia e archivia Lo sai che c'è anche Nelle avanzate C'è anche l'opzione Multiple Inboxes Inbox multiple Che io non l'ho ancora Attivato Dove Credo sia possibile Creare proprio Delle inbox Separate In base a Che tu puoi configurarla Quindi tutte quelle Che hanno Una label Piuttosto che Tutte quelle Marcate Con la stellina Non so se ci hai provato A giochicchia A post in arrivo multiple Credo che siano Degli altri tab Come Come promozione E social Non lo so Non volevo sapere Se ci hai provato A giocare A giocare A capire come funzionava Prima che Perché mi ci metto Mi ci metterò anche io Invia e archivia Mostra il pulsante Invia e archivia Tac Ok Ok Grazie per questo tip Altra cosa Su cui ho lavorato È Appunto La nuova area cliente E A parte i dettagli Di che cosa fa Di che cosa non fa Volevo raccontare Come Come ho deciso Di fare Di fare il lancio O meglio Come ho deciso Di introdurre Questa Questa modifica All'interno Del sito Di come comunicarlo ai clienti Innanzitutto C'è stata la fase Di preparazione Ok È stata testata Ovviamente E poi lunedì mattina Era disponibile Per tutti i clienti Ho registrato Un video Spiegando Che Spiegando le novità E L'ho mandato Tramite Ho fatto una newsletter Appunto Per avvisare i clienti Di questa novità Poi ho anche attivato Subito Hotjar Che è Quello strumento Di cui abbiamo già parlato Che permette di fare cose Veramente carine Per capire Che cosa fanno gli utenti Sul proprio sito web In particolare Ho attivato due funzionalità La prima è quella Di session recording Dove praticamente Hai proprio dei video Dove vedi esattamente Come si spostano Gli utenti All'interno del tuo sito Dove cliccano Che pagine vedono E questo L'ho attivato Per capire In caso di segnalazioni Di problemi Per poter andare A vedere I video Per capire Se in effetti Se c'erano dei problemi E poi la funzionalità Di survey Dove Chi è all'interno Dell'area utente Vede Comparo una finestrella Dove gli viene chiesto Un feedback La domanda è Ti piace la nuova area clienti E le opzioni sono Sì No E da migliorare E se si sceglie No O da migliorare C'è spazio Per scrivere Un feedback Ecco Questo è stato Un attimo Il processo Per introdurre Questo cambio Che comunque È un grosso cambio Perché per i clienti Abbonati L'area cliente È come utilizzano Servizio L'interfaccia Con il servizio Quindi È stato Un cambio Che volevo introdurre Con un modo Un po' Organizzato E con degli strumenti Per poter capire Se si va Nella giusta direzione Altra novità Di queste due settimane Ho iniziato a seguire Un po' di più Andrea Ciraulo Di Officine Media Ebbè Era partito Con passione podcast Però Adesso sta facendo Tantissimi Podcast diversi In particolare C'è Fare Smart Che esce tutti i giorni Sette giorni Una settimana In cui racconta Parla di tecnologia Di come fare qualcosa Nello strumento Di un Qualcosa che ci può aiutare A essere più smart Nel nostro utilizzo Della tecnologia Sono diventato Un suo sostenitore Su Patreon E quindi ho avuto accesso A dei contenuti extra Che ha messo sul canale Tele Che ha messo sul Patreon E anche a un canale Telegram riservato Andrea è un pazzo Nel senso che è un geek Qualunque cosa fa Cerca di automatizzarlo Il più possibile O di ottimizzarlo Il più possibile Quindi mi piace Molto questo approccio È molto È molto tecnico Perché nasce Come sviluppatore lui E domenica Mi sono sparato Due ore di video In cui spiegava Esattamente Qual è il processo Che usa Per creare Questo podcast Questo nuovo podcast E fare smart E innanzitutto è bellissimo Vedere come Crea un podcast Partendo proprio da zero Quali strumenti utilizza E come ha Ottimizzato il processo Per rendere la cosa Veloce da fare Pensa Se hai un contenuto Al giorno da fare O ti organizzi Per farli in modo Sequenziale Oppure diventa Una cosa Che ti fa perdere Molto tempo E in tutti questi tool Che utilizza Mi ha impressionato Molto OBS Si chiama OBS Studio Un software gratuito E io Lo conoscevo Poco Però conoscevo OBS Perché ti permette Di fare streaming live Cioè se tu vuoi fare Una live su YouTube O utilizzi l'app Sul cellulare Oppure puoi utilizzare Hangout Oppure puoi utilizzare Questo OBS Studio Però in realtà OBS Studio Tu lo puoi utilizzare Anche per registrare Dei video Con la tua webcam Fare screen sharing Ed è fighissimo Perché OBS Ti permette di creare Delle scene E passare Da una scena all'altra Semplicemente Con delle shortcut Da tastiera Quindi premendo Una combinazione Di tasti Puoi passare Da avere Il tuo faccione Con la webcam frontale Passare A condividere Lo schermo Con la tua faccia Nell'angolino Oppure passare A una webcam esterna Quindi che ti fa Una ripresa Da un angolo E passare Magari a un video finale Oppure Un'immagine finale Tutto questo Senza fare Editing Del video Cioè Tu già Mentre fai il video Utilizzando queste Shortcut da tastiera Puoi passare Da una visualizzazione All'altra Mi sembra bellissimo Perché In modo semplice E veloce Puoi portare La tua produzione Video A un livello Più alto Ho speso un po' di tempo Con questo OBS E il video E il video che ho fatto Per presentare La nuova area Clienti L'ho fatto proprio Utilizzando OBS Facendo un paio Di cambi Cambi di scena Grande Bellissimo Bellissimo strumento E grande Andrea Che ha veramente Un approccio interessante Fa dei podcast Molto belli da sentire Daniel OBS Ce l'ho installato Anch'io L'ho utilizzato Qualche volta Non sono mai andato a fondo Non è intuitivissimo Però si permette Di utilizzare Anche il green screen Permette di utilizzare Tante cose Anche delle scritte E poi Un software Credo sia open source È open source Sì È open source Mi sembra Uno di quegli strumenti Che non è Come dici tu Non è intuitivissimo Non è facilissimo Da utilizzare Però vale la pena Spenderci un po' di tempo Perché Per chi fa video È un bel cambio Cioè io Io sono quello Che fa video Trascinando la mia faccia Cioè c'è la webcam C'è la webcam In un angolo E poi la trascino in mezzo Quando voglio dare più risalto A quello che dico L'allargo Cioè Molto amatoriale E invece con questo OBS configurato bene Puoi dare un approccio Molto più bello Da vedere Senza Senza ammazzarsi di editing Che è il terrore Che avevo io Quando ho iniziato a fare video Ero terrorizzato Al dover spendere ore e ore A fare A fare editing Dei video Già facciamo L'editing del podcast Per togliere Tutte le cose strane Che diciamo E quello Porta via un paio d'ore E basta avanza Daniele stavo guardando Questo podcast Fare smart È un podcast video O è un podcast solo audio? Allora Andrea Fa sia la versione video Su YouTube Che la versione audio Le fa tutte e due In un colpo solo Cioè È la versione video Che poi viene Esportata in audio E comunque Tutto quello di cui parla Si può ascoltare Non sono spiegazioni Dove è richiesto Di guardare lo schermo No perché Stavo guardando Le varie puntate E mi sembrava più Una cosa da video Che non da audio Però è chiaro che Se sei capace Di raccontarle bene Le puoi anche raccontare In un podcast Però mi era sorto il dubbio Che originariamente Forse più da video Sì è l'approccio opposto Al nostro Cioè Noi registriamo l'audio E poi Grazie a Spreaker Finisce su YouTube Però su YouTube Hai la traccia audio Con una copertina Con un'immagine di copertina Invece lui registra il video E poi Esporta l'audio E lo va a caricare Su Spreaker Come podcast Bene Daniele Centro di queste puntate Dobbiamo adesso Darci degli obiettivi Per le prossime due settimane Sì Marco Allora Il mio primo obiettivo Per le prossime due settimane Sarà Darmi un obiettivo Per il prossimo anno Ti spiego Ecco Mi sono accorto che Ho molti obiettivi A breve termine Per esempio Col podcast Ci possiamo dare obiettivi Ogni due settimane All'interno del mastermind Ci diamo obiettivi Per il mese Però Quello che mi manca È Una Visione A lungo termine E degli obiettivi A lungo termine È anche vero che Quando ti dai degli obiettivi Senti delle aspettative Quindi è più probabile Che rimani deluso Nella vita Però Sono un po' stanco Di navigare a vista E in effetti Credo che Avpok Farebbe molto bene Avere degli obiettivi Grandiosi Ambiziosi A più lungo termine Perché poi Da quegli obiettivi Mi spiegava il mio amico Gianluca Però Questo è un altro Gianluca Gianluca Rago Mi spiegava che Uno dei metodi Che utilizzano le grosse aziende È di impostare questi OKR Che sono Objective And Key Results Quindi Partendo dalla mission Dell'azienda Creare degli obiettivi Misurabili E gli obiettivi misurabili Poi spezzettarli In risultati Da raggiungere Tutto allineato Verso la missione aziendale Ecco Vorrei Veramente ragionare Su che cosa voglio Voglio ottenere con WPOK Condividerlo con I miei collaboratori E da quel punto Cioè da lì Andare a cascata A scendere Per capire Chi deve fare che cosa Per lavorare Al raggiungimento Di questi obiettivi Per arrivare Verso la missione Che abbiamo Daniele Prima Ancora più là Devi Pensare a un B-Hug Ne avevamo già parlato Big Hero Audacious Goal Sì esatto Mi piacerebbe avere Uno di questi obiettivi Per esempio Microsoft Un computer Su ogni scrivania SpaceX Per andare su Marte Ecco avere un obiettivo E quindi ecco Il primo obiettivo De queste settimane Sarà ragionare Sull'obiettivo Del prossimo anno Del prossimo 12 mesi Magari ai prossimi 10 anni O dei prossimi 25 anni Così vado in pensione Direttamente Secondo obiettivo Non abbiamo parlato Di se è ok Però La pagina di vendita È pronta La metterò qui Nelle note Per chi è interessato A vedere Che servizio Stiamo lanciando Inizialmente Sarà disponibile Per i clienti Di WPOK E Lavoreremo Su un numero Chiuso Di clienti Per rodare Il servizio Rodare il sistema E rodare Tutte le procedure Tu Marco Daniele Io ho sempre Il mio problema Di lanciare Il sito Whiteboard.e Adesso basta Scuse Prima mancava Il personale Poi mancavo io Poi mancava La connessione A Google Non c'è verso Cioè Se Non lo lancio Per le prossime Due settimane Non mi faccio più sentire Mi ritiro Dalla vita Di digi imprenditore Non sono più degno Di essere un digi imprenditore A condividere Questo podcast Con te Quindi questo è Il mio obiettivo Assolutamente Primario Da raggiungere Beh Non preoccuparti Che se ok Sta diventando Il mio Whiteboard.e Perché anche io Ne sto parlando Da un po' E Ancora non c'è Poi l'altro obiettivo Devo un po' Riorganizzare Gli incontri Che ho fatto in Cina Devo Risistemare Un po' Delle aziende Degli obiettivi Per i prossimi Due anni Diciamo Ci sono novità Si riferiscono più Agli altri settori Non a quello Delle video animazioni Ma voglio chiudere Questa Parentesi cinese Organizzare il tutto In modo poi Da poter delegare E far andare avanti I miei Sugli altri due settori Per poi Ridedicarmi Con molto più tempo A Alle video animazioni Perché tra l'altro Dovei andare in vacanza Tra un paio di giorni Permettendo le prossime due settimane Dovrei lavorare Dalla vacanza Cioè portare in vacanza La famiglia E lavorare dalla vacanza Dallo studio mobile Non so ancora quale Dove Quando Ma Sarà Bene Marco Allora Ci aggiorniamo Fra due settimane Ricordatevi di iscrivervi al gruppo Telegram Dove discutiamo insieme Ad altri digi imprenditori Tra un episodio e l'altro E iscrivetevi al nostro podcast Per non perdere le prossime puntate Lasciateci le recensioni Fateci sapere Che cosa vi è piaciuto E che cosa non vi è piaciuto Benvengano i vostri suggerimenti Sulle tematiche affrontate Ringraziamo il nostro editore New Media Web E il nostro sponsor Active Power Se volete contattarci Andate su digi imprenditori.it Che sarà online a breve Oppure trovate i nostri dati Nelle notte dell'episodio A presto Ciao 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 Daniele Quando lo trovo Aspetta che ce l'ho con anch'io Due punti Come si chiama Sembra la messa Auguri Ah Ah cazzo è vero Che la dobbiamo fare Ah 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 Quando sei pronto Sei solo Difuso